Siamo con Massimiliano Rosolino e Arena, ma non siamo in piscina, ma corriamo. Cosa facciamo oggi? Beh, io direi che è il caso di... comunque, molte persone dicono, come mai si parla con Massimiliano Rosolino di running? Di corsa. Perché dall'acqua al sudore, perché il sudore è garantito. Molti pensano, ma quando nuoto, farò fatica, consumo qualcosa, beh, nella corsa non hai nessun dubbio. Cosa faremo oggi? Vedi, Milano, uno dice, fa freddo, non è... tutto non è vero. Ormai il mondo si è invertito, secondo me è diventato il sudore. Fa freddo a Napoli. Esatto, oggi pioveva, non lo so, ovviamente non lo so. Però oggi niente, perciò credo che andremo in giro per fare un 5-6... Abilissimo a sviare le domande, ma tu corri, da quanto corri? No, io corro da quasi due anni, almeno un anno e mezzo seriamente. Quante volte corri a settimana? Da 3 a 4 volte, due volte in pista, uno un po' più lungo e uno possibilmente in un recupero. Quindi preferisci il lavoro in pista? È più simile al nuoto, diciamo così? Sì, diciamo che non sono bravo a furire il fondo medio. Bravissimo, non volevo dirlo io, non l'avevo detto... Il fondo medio, mi piacciono le ripetute, mi piace fare il lungo, però il mio lungo è un'ora e un quarto, un'ora e venti, un'ora e mezza, ciò mi sembra un tema più proibitivo. Hai già fatto qualche gara? Ho fatto in un anno circa 5, se non so, non sbaglio, 5-10 chilometri. Il migliore è stato... Non lo sbaglio. No, circa, voglio dire, più che hai fatto 1, 2, 3, 4, 5... Ti è piaciuto? Com'è la sensazione? Bello. Bello, bello. Mezzo la gente? Eh, assolutamente bello. Quello che odio è comunque quando arrivi e tutti sono convinti che tu non debba... tu non ti puoi permettere di lamentarti. Di fare fatica perché sei uno sportivo. Devi arrivare, devi fare finta di non avere dolori, devi fare finta di fare... Invece arrivo stravolto. E questa è la cosa bella che mi piace proprio dalla corsa. Ok, una domanda un po' più tecnica. Tantissimi runner che si danno al triathlon hanno dei problemi con il nuoto, perché è una dimensione completamente diversa. Com'è invece per uno che ha nuotato tutta la vita, poi correre, il primo impatto? Quali sono le difficoltà? Ma le difficoltà sono tantissime, perché veramente... Se uno non l'ha mai nuotato e prova a farlo, è drammatico. Però se uno pensa di essere bravo nel nuoto e di catapultarsi nella corsa senza neanche aver, diciamo, fatto una partita con gli amici a pallone, come ho fatto io. Perciò io proprio, io alla corsa non siamo mai stati amici. Adesso ci siamo... No, no, ma zero. Io all'inizio stagione, ci sono due aneddoti. All'inizio stagione si correva sempre quando ero adolescente. Il mio allenatore mi faceva fare una cosa, fermati, fermati, mi feve schifo, faceva. E un altro aneddoto carino è quando ho conosciuto la Titova, primi anni, lei invece era brava a correre, ho provato una volta a stare dietro, mi ha fermato anche lei. Perciò veramente io sono proprio la forza di volontà della corsa. Ah, dimostri come con la forza di volontà si riesce anche... Però due veramente ingredienti importanti e molto seri. La forza di volontà di fare una cosa che ti incuriosisce. Bisogna affidarsi o comunque far parte di qualcuno che è più bravo. Perciò che uno faccia soltanto e soltanto i 5, 6 o i 10 chilometri... Cioè ci vuole del metodo. Ci vuole un metodo, non ci fissiamo soltanto con la quantità e la distanza. Invece un consiglio uno per i runner che cominciano a nuotare più seriamente? Qual è il consiglio che ti senti diare? Stessa cosa, se uno ci vuole un metodo, uno deve essere rilassato, cercare di fare piccoli passi per volta. Come a me piace la pista perché arrivo dalla pista, perché arrivo comunque dalla pista dell'acqua. Invece uno deve cercare di non pensare di stare in mare, non cercare di fare subito mille metri di seguito. Cercare di frazionare lo sforzo e vedrai che l'acqua ti sarà amica. L'acqua sarà tua amica. Ti ringrazio, ciao. Andiamo a correre, un saluto a tutti. Ciao. Perché in fondo siamo tutti un cuore di acqua. Pensavo abbiamo tutti bisogno di correre. Grazie.